Allora non me ne vogliate perché la mia intenzione era quella di portare il classico a bocce ferme Che facciamo a ogni giornata di serie A dove andiamo ad analizzare partita per partita Con le nostre sensazioni consigli al fantacalcio e via dicendo Ma poi ho guardato sta giornata di serie A Ed effettivamente giocheranno una, due, tre, quattro, cinque, sei partite Una giornata di serie A mutilata mettiamola così no? Quattro delle quali poi verranno recuperate se... A campacavallo Ecco quindi ho detto ma c'ha senso portare una bocce ferme così? Assolutamente no Effettivamente tutti i torti non ce li hai e soprattutto nella vita esistono le edizioni straordinarie Quindi... Diciamo che è una sorta di a bocce ferme ma questa è pure una prediction Anche una prediction, un po' tutto Sulla Supercoppa italiana, sul nuovo format della Supercoppa italiana Che si disputerà nel giro dei quattro o cinque giorni Due semifinali e una finale che decreteranno la vincitrice di quest'anno E siamo qui appunto come ha detto lui con una sorta di a bocce ferme Per cercare di analizzare la situazione ed estrapolare secondo noi chi sta Supercoppa effettivamente la vincerà Ciao e ben ritrovati a tutti ragazzi Innanzitutto scriveteci pure voi qui sotto nei commenti Secondo voi chi vincerà sta Supercoppa italiana Ancepe io a parlare ma più che altro mi stanno a rincoglioni Perché della stanno a fa' un macello Stanno a sposta ai mobili Non lo so che stanno facendo ma non fa niente Ci stanno i ragazzini va bene ok So perfettamente perché ce l'ho pure io Uno solo ma a breve potrebbero diventare otto Allora scusate se mi sono dilungato Una marea di mi piace su questo video per continuare a supportare questo genere di contenuti La bocce ferme è quello classico della serie A Ovviamente Iscrivetevi e attivate la campanella Per restare sempre aggiornati Se lo fate vi arriverà sempre la notifica sul cellulare Ci rivolgiamo a quelli che apprezzano i contenuti di questo canale Che apprezzano questo canale ma che ancora non lo hanno fatto Per il 2024 ce lo fate sto regalo Grazie a chi lo farà Grazie a chi già l'ha fatto Due canali di calcio e di extra calcio in descrizione Compariranno qui durante il video Si parte da Stasera c'è Napoli-Fiorentina Sì E il giorno dopo domani sera Controlla per sicurezza Controllo subito Perché vorrei di una bagianata Interlazio C'è Interlazio Come funziona il format mentre lui verifica e controlla Comunque ci sono una la sera prima e una la sera dopo Interlazio E poi lunedì 22 Lunedì sera la finalissima Esatto Il format è semplicissimo Ragazzi a partita secca Si giocano le semifinali Ma c'è una novità nel format Perché in caso di parità ai tempi regolamentari Si va direttamente ai calci di rigore Quindi questa è una cosa molto molto particolare Cosa molto particolare che però devo dire Mi stuzzica alquanto È molto particolare Sia ovviamente per le due semifinali Sia per la finalissima E cioè vale la stessa identica cosa anche per la finalissima Quindi pareggio Ok perfetto Sbada pramma Immediatamente calci di rigore È così improbabile che accada almeno in una Ad essere tre partite Potrebbe accadere in entrambe In tutte e tre in realtà Anche nella finalissima Sì io intanto ho detto le due Perché comunque sappiamo già gli accoppiamenti Per cui Napoli-Fiorentina potrebbe essere Tranquillamente un pareggio nei 90 minuti Altrettanto per Interlazio Assolutamente sì Detto questo Cominciamo da Napoli-Fiorentina Sì Poi ci spostiamo a Interlazio E poi ovviamente a questa ipotetica no finale Che ovviamente ci immaginiamo noi Vediamo se andremo a convergere Con i nostri pareri personali Bene Cominciando da Napoli-Fiorentina Non è Regà perché qualcuno mi ha detto Eh ma a Napoli giocano in casa Giocano dall'altra parte del mondo Giocano tutte allo stadio dell'Al-Nasr Ah allo stadio dell'Al-Nasr Di Cristiano Ronaldo Tutte e tre le partite? Tutte e tre Tutte e tre Quindi non proprio dall'altra parte del mondo C'è di peggio Però comunque abbastanza distanti da casa Quindi qualcuno ha detto Se gioca a Maradona Se gioca a San Zio No No Tutte in trasferta Tutte italiane giocano in trasferta Dice perché? Soldi 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 Eh sì La se potrebbe aprire un'altra parentesi Ma non è questo l'argomento Io ti sorprenderò Sì Ovviamente ho guardato le probabili ipotetiche formazioni Bene o male no? Con le dovute defezioni del caso Osimen e Anghissa che mancano per il Napoli Indisponibili Per la Coppa d'Africa Però bene o male sono le probabili che potevamo aspettarci Io non so perché E qualcuno potrebbe dire Te lo dico io perché Ma vedo avvantaggiata la Fiorentina contro il Napoli Cioè questo attuale Napoli Che in extremis al photo finish Vince con la Salernitana Per quanto poi ha vinto In quest'ultimo periodo storico A me non dà certezze Non dà sicurezze Per quanto poi la Fiorentina Qualcuno potrebbe controbattere e dire Oh Guarda che uguale Ma vi sta la Fiorentina nelle ultime due? Comunque Non è che stanno messi tanto meglio Seppur in classifica ad oggi Stanno messi meglio rispetto al Napoli In classifica ad oggi sì Alla fine li dividono solo tre punti In serie A Certo Niente di così sconvolgente Tu che ne pensi? Napoli In finale Quindi secondo te Nonostante il periodo negativo del Napoli Alla fine tireranno fuori i cosiddetti E sarà il Napoli a spuntarla Partita sudatissima Soffertissima Ma la spunta il Napoli Senza rigori Senza rigori Quindi vince Ai tempi regolamentari Però de misura Un qualcosa de tirato Io mi aspetto una partita tiratissima Mi aspetto però Una partita in cui Anche la Fiorentina Non è che mi dà tutte Ste grandissime certezze Ovviamente Se devo entrare proprio Nel dettaglio della situazione Ma non so perché Non so perché Ma la mia testa mi dice che Alla fine Sempre de misura Però non lo so se Nei tempi regolamentari Hai calci di rigore Questo non ve lo so dire Perché non c'ho la palla De vetro io Non ce l'ha neanche lui Però io mi sento Che alla fine La spunta la Fiorentina Mi devo esporre Vi dico che Si finirà in pareggio Si andrà ai calci di rigore E la vince la Fiorentina E probabilmente La vince la Fiorentina Questa è l'impressione La percezione che è Può succedere Sei d'accordo con me quindi Nel senso Tu pensi Napoli Però non è così impossibile Non è improbabile Assolutamente Io ti dico la verità Non perché tifo Roma Cioè ve lo dico In totale onestà Ma se penso a Inter Lazio Su un campo neutro Se penso ad oggi Ad una Lazio In nettissima ripresa Perché poi Lo dicono le ultime Quattro partite Però Ma te sai grattare il culo No mi sto grattando No 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 Mi sto grattando la gamba Non posso grattare la gamba Vabbè Vedo L'Inter Ma credo che tu No 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 vai vai Finisci il discorso Non sei d'accordo con me Vai tranquillo Finisci il discorso Quando dice così Potrebbe dire qualcosa Di clamoroso E che va Finisci il discorso Contro ogni pronostico Finisci il discorso Io penso che Per quanto possa essere Una partita equilibrata Sì Ma vedo l'Inter Guardando anche le probabili Turam Lautaro Di Marco La difesa Sembra che giocheranno Pavar Bastoni E Acerbi Se non mi ricordo male Proprio Acerbi Sì La classica formazione Tipo dell'Inter Senza defezioni Senza problemi E la Lazio pure Sembra che giocherà Immobile Zaccagni Felipe And La classica Lazio Con Luis Alberto E via dicendo Sì Qualche incertezza in difesa Ma bene o male quella Per me l'Inter Cioè Ci avrà la meglio Nei 90 regolamentari Io credo che Anche senza troppe difficoltà Alla fine Vincerà questa No Immaginavo Vince la Lazio Passa la No Pareggio nei 90 minuti E l'Inter No Che la vince Ai rigori l'Inter Allora Qui lo dico e qui non lo nego Se l'Inter va ai calci di rigore La Lazio passa È quella la netta possibilità Per la Lazio Di portarsi a casa Il bottino Anche questa sarà una partita Sudatissima Una semifinale Dove si daranno battaglia Pareggio Non so con quante reti Perché sicuramente Segnano Può essere 1 a 1 Può essere 2 a 2 O di più Però Ai rigori Per me la Lazio può essere All'altezza della situazione Nei 90 minuti La Lazio sarà All'altezza dell'Inter Per me sì Però l'Inter In un modo o nell'altro Secondo me 2 a 1 3 a 3 a 1 Punta in un modo o nell'altro Ai calci di rigore Non so assolutamente d'accordo Però comunque siamo Convergiamo Alla fine l'Inter la passa Ok Quindi abbiamo detto che passa Fiorentina Io Napoli Te E Inter Ok Concordiamo Quindi per me la finale O sarà Fiorentina Inter Per me Napoli Inter Quindi per te L'attuale Gli attuali campioni D'Italia in carica Contro i primi in classifica Per me Una squadra Che attualmente Quarta in classifica Contro gli attuali Primi in classifica Vabbè Ti dico prima io Cosa ne penso Sì Non vedo in realtà Molta partita Nel senso Se l'Inter Prende un minimo Di consapevolezza Perché è anche questa Secondo me la chiave Di lettura Se fa 3-1 Alla Lazio Ad esempio Come posso ipotizzare Non sarà Non incontreranno Proprio difficoltà Sanno già Prima di giocare Sta partita Non con Overconfidence Ma con Mirati Con i paraocchi L'Inter Sa la porta a casa E sta partita La vince senza problemi Ok Batte la Fiorentina Nei 90 regolamentari Te saluto E se beccamo Alla prossima edizione Della Supercoppa Italiana Praticamente Perché sicuramente Riparteciperà Un'altra volta Io invece Per quanto riguarda La mia finale Quindi Napoli-Inter Sicuramente Può essere Una partita Un po' In altre situazioni Avrei anche osato Napoli Non in questa Per il semplice fatto Che non è tanto Il Napoli Che mi preoccupa Diciamo Sulla partita secca Perché nei 90 minuti Secondo me Se la giocano Ma più che altro Perché è l'Inter Di Simone Inzaghi Che ha già pagato Dazio In Coppa Italia Perché se Inzaghi È veramente Re di Coppe Non lascerà Passare così Sotto traccia Diciamo Il mancato passaggio Al turno successivo In Coppa Italia Quindi cercherà Il riscatto assoluto E vorrà vincere A tutti i costi Questa Supercoppa Italiana Quindi secondo me Con l'Inter Non c'è speranza Quindi preparatevi Che O la vince La Fiorentina O la vince Alazio O la vince Il Napoli Sto a dire Il Napoli Tu hai detto Finale Ah no C'hai ragione L'ultima animale Vincia Alazio Sicuro 100% Preparate È l'unica che avevo concordato Che non riesce ad andare La finale C'hai ragione Allora vince la Lazio Vincia la Lazio No però scherzi a parte Se io vi devo dare una percezione La mia percezione È la seguente Per me L'Inter ragazzi È la Strafavorita Ma non è che C'è uno scienziato Per capirlo Lo dicono i dati statistici Lo dice l'attuale classifica Di Serie A Vedo una squadra Veramente più forte Delle altre C'è fosse stata De Mezzo La Juventus Allora Lì allora Avremmo potuto fare Secondo me Un discorso Molto diverso Molto diverso In quel caso Sì lo fai diverso Così Seppur abbiamo fatto Alla fine un discorso diverso Per l'Inter No Per le altre sì Però ecco Questa è la È la chiave di lettura Chiudo il contenuto Dicendo che Secondo me C'hai assolutamente ragione Il re dei coppi Per eccellenza Inzaghi Non è che l'ha dimostrato Solo con l'Inter L'anno scorso Che Lo ha dimostrato Tante volte Con la Lazio Quindi Se hai lasciato scappare La possibilità Coppa Italia Secondo me Non se lascerà Scappare La possibilità Più ghiotta Che gli è rimasta In termini di coppe Per quanto la Champions League Insomma È anche Ipoteticamente La loro portata Ma questa Ma questa per eccellenza È la competizione Che secondo me Possono Divorare A gran fare A gran fare A gran fare A gran fare Nel senso di Esatto Ma non è un bel termine A gran fare A gran fi No Con du g A gran fi A gran fi Va bene La vostra Qui sotto Nei commenti Chi la vince Secondo voi So di La Conference League La Conference Direi proprio no Detto questo Mentre continuano A spalla a casa Se beccammo Alla prossima Con un nuovo video Grazie per la visione Ciao a tutti Ciao ragazzi Ciao a tutti